Un'altra protagonista Elena Lotta del Centro Benessere Selene, intanto dove si trova questa attività? All'Eporano? All'Eporano, in via Mazzini 7, devo ringraziare Danilo che mi ha coinvolto in questa bella manifestazione e spero che vada tutto bene, per adesso abbiamo lavorato tanto e sono state anche tanto brave, tutte disponibili in tutto quello che abbiamo fatto. Siete tutte impegnate ovviamente per far trasparire la bellezza esteriore, il sintomo del benessere, ma dicevo anche interiore perché lo sottolineiamo, la finalità principale è la beneficenza. Infatti sì, stiamo facendo questa beneficenza, speriamo che vengano tante persone in modo da poter arrivare a un bel risultato. Vedo molte ragazze, giovani e quindi tanto entusiasmo, forse anche un po' di batticuore, perché sfilare è una cosa impegnativa. Sì, sì, ma ti emoziona sempre fare queste manifestazioni, ne ho fatte tante, ma è sempre come se... Sempre come la prima volta. Sì, sì.